Pillole di non solo suoni, la storia della musica, passa da noi. Ben ritrovati, andiamo oggi al 1980, questo è l'anno in cui un grande cantautore e musicista, ma in generale un artista tutto tondo come Elton John, ha pubblicato White Lady, White Powder. Si tratta di un brano molto amato da tanti fan, ma anche odiato, odiato per il riferimento alla White Powder, la polvere bianca, ossia la cocaina. Il titolo e poi il testo infatti sono traducibili letteralmente come la donna bianca o donna in bianco, polverina bianca. A scrivere la lirica è stato il socio artistico di sempre di Elton John, cioè Bernie Taupin, e appunto il riferimento esplicito è alla cocaina. Il protagonista del brano infatti ama una donna che però è solita assumere questa droga e quindi si fa coinvolgere anche lui da questo giro. White Lady, White Powder potrebbe essere allora un po' ritenuta come una canzone ironica, dato che Elton John era noto per aver assunto a sua volta la cocaina fino alla fine degli anni 80, mentre poi negli anni 90 si è disintossicato e riabilitato per così dire. È uno dei rarissimi pezzi della discografia di Elton John che comunque cita un tipo di droga. A livello musicale invece proviene dall'album del 1980 21 at 33, cioè il numero dei dischi che aveva pubblicato fino ad allora e del quale era la quinta traccia. È caratterizzato da un forte ritmo, la melodia di tipo soft rock ma soprattutto con toni molto pop. I critici nel corso degli anni hanno sempre apprezzato molto le chitarre e il pianoforte di Elton John che aprono la canzone e ne caratterizzano anche alcune brevi parti strumentali. Fondamentali ai cori anche Don Hinley, Glenn Frey, Timothy Schmidt, mentre membri tutti della rock band degli Eagles. Abbiamo fatto riferimento poi all'album di cui appunto fa parte questo brano, si trattava del ventesimo disco, il quattordicesimo in studio del cantautore britannico pubblicato dalla The Rocker Record Company e dalla MCA Records nel maggio del 1980. Registrato ai Super Bear Studios di Nizza in Francia segnò la ripresa di Elton John dopo la breve parentesi disco e il titolo indicava proprio il numero totale degli album pubblicati fino a quel momento per l'appunto 21 perché i doppi album sono contati per due, mentre non sono conteggiati né The Tom Bell Sessions né Lady Samantha. E anche l'età della rock star, 33 anni. Ricco di collaborazioni con musicisti presumibilmente coordinati da James Newton Howard si presentava come un album di stampo pop rock con degli ottimi spunti artistici ma anche commerciali. Comunque va detto che Elton John ha suonato raramente in concerto i brani contenuti in questo LP, eccezione fatta per il suo tour proprio del 1980. Soltanto Little Janie, grande successo in America, numero 3 negli Stati Uniti, numero 1 in Canada è stata poi riproposta ma parliamo di esibizioni del 2000. 21 at 33 segna anche la riappacificazione di Elton John con il suo paroliere che abbiamo citato, Bernie Taupin, i testi di alcuni brani dell'LP sono stati scritti proprio da lui e soltanto nel 1983 con l'album Too Low for Zero sarà però possibile parlare di una vera e propria reunion tra i due. In ogni caso nel 2003 ecco che è uscita anche una ristampa di questo disco come Digitally Remastered.